Agente di polizia locale? Sarai d'accordo anche te? Gli incidenti stradali vengono rilevati con tecniche preistoriche, cordella metrica, blocnotes, matita, gesso, macchina fotografica. Tutti strumenti che favoriscono errori frequenti, necessitano della presenza di più agenti e richiedono tanto tempo di lavoro. A rimetterci anche la viabilità, spesso generatrice di ulteriori incidenti per agenti e civili. Tutto questo è evitabile con iCam 3D, l'innovativo sistema di rilevamento incidenti stradali. In un'unica operazione effettua i quattro diversi rilievi, metrico, planimetrico, fotografico e 3D. I grandi vantaggi? Velocità di acquisizione della scena, misurazioni precise tramite software, zero possibilità di errori per la gente, nessun contatto con le superfici, quindi 0% probabilità di contagio. Il bello? Verifichi gli elementi della scena anche a posteriori, nessun dato va perso o può essere modificato. Come funziona? Sarà complicato? No! E come fare foto con il tuo smartphone? Tu inquadri e scatti, lui acquisisce e misura. E se mi occorre aiuto? Il nostro supporto telefonico è attivo H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Una rete di assistenza italiana, proprio come questo prodotto. Grazie alla sua tecnologia, iCam 3D necessita di un solo agente sul posto, favorendo così un'efficiente gestione del personale di polizia. Grazie a tutti!